ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft io sono Enola, ho 6 anni ciao a tutti ciao a tutti allora papino cosa dobbiamo fare? allora oggi siamo in questa mappa che hanno messo gratuita per oggi sul marketplace e questo ho visto che l'ho fatto in animazione sì questo qua ha fatto un'animazione prima e credo che sia all'inizio della mappa c'è scritto start comunque insomma è una mappa creata tutta quanta con le novità della 1.20 almeno così insomma c'è scritto nella descrizione guardate che carino che cos'è wow è tutto al tema archeologia allora che ne dite cominciamo? sì va bene vai ok io sono stato in nata dentro oh c'era un rumore di un cavallo dove siamo? ah qua dietro vedo un crafting intanto ci dice come craftare il pennellino però prima in alto c'è scritto di parlare con il professor Stone andiamo a parlare con il professor Stone? va bene vai papà dove dobbiamo andare? segui papà c'è questo png con un punto interrogativo in testa penso sia lui allora vediamo un attimo che cosa mi dice mi dice buongiorno nuova recluta è contenta che ci siamo uniti a lei e praticamente questo qua è uno scavo e quindi insomma ci sono molte cose da scoprire dobbiamo andare e scavare ok quindi allora vabbè ci spiega che prima dobbiamo craftare un pennello che quindi è uno strumento molto importante mi ha dato gli oggetti per fare il pennello ce li avete anche voi? si ok allora craftiamolo ok ok lo so tutto l'ordine riesco a ripeterlo ok uno questo qua questo qua e poi mettiamo questo alla fine questo 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 si perché lei ha messo manualmente guardate guardate quello che ho avuto una specie di spada volante una spada volante qui giù c'è una spada volante no non è una credo sia un vaso un vaso no ti ho dato un pugno perché sei passata comunque si era da fare quello ah ok sono da prendere perché ci danno le monetine allora però dobbiamo finire ancora di parlare col professor Stone vediamo un po' che ci dice adesso ci fa i complimenti che abbiamo craftato questo bellissimo pennellino e dobbiamo trovare la sabbia sospetta quindi vediamo un po' perché ci dice di usare il nostro pennellino sulla ah ok è qua e no la vieni scava la sabbia sospetta spennella la più che scava che cos'è? ma si ci darà? wow wow dobbiamo parlare di nuovo col professore e va bene ci dice che siamo un talento naturale grazie allora siamo pronti per la nostra prima missione? sì direi anche da un po' allora le fonti d'acqua sono ottimi spot dove trovare queste cose quindi adesso dobbiamo andare a cercare la sabbia sospetta nel deserto per di qua credo di sì è tutto bello illuminato abbastanza facile allora ah c'è la piramide l'ho trovata ottimo che cosa uscirà fuori? sembra un pezzo di vaso e no la che cos'era? un pezzo di vaso ottimo wow c'era solo quella? sì c'era soltanto quella dobbiamo tornare a parlare col professor Stone che parte divertente questa facciamo ah se l'hai trovata vai prendila sono dei vasi dorati di qua no la riesce andiamo giù? andiamo e vediamo cosa ci dice adesso il professor Stone che non è più dove era prima si è spostato un po' più in qua allora ci dice se abbiamo trovato qualcosa sì un pezzo di vaso wow che bello allora dobbiamo andare a dormire e passiamo al giorno successivo ok ma a proposito la nostra casa la vedo penso sia sempre illuminato oh ma dormiamo proprio sulle brandine così wow che carino io voglio la verde io prendo quella che rimane no ma mi è saletta automaticamente ma non sono nel letto io io ho cliccato nel letto penso che tu abbia cliccato e ci abbia trascinato ah ok wow questi letti sono magici vuoi vedere che siamo nel passato e infatti sì siamo in una sorta di mondo del passato cosa? questa cesta niente qui da me c'è una spada con l'armatura prendiamoci un set ciascuno allora vi lascio in questa cesta ho trovato della legna io so dove metterla prendetene un po' per uno io so dove mettere questa legna volete venire con me mi mostro dove va messa adesso veniamo subito l'hai presa la legna? sì va messa qua lo vedete ora dobbiamo soltanto trovare ah ci fa vedere il crafting del cartello però servono le catene prima io ho trovato le catene ottimo ne volevo un po' mamma allora facciamo che no la crafta il cartello hai la legna? sì la perla da papà ok ok ma sapete che mi piace questa configurazione d'armatura con due pezzi in maglia e due cerco e no la ne ha fatti sei dei cartelli non so perché non ha fatto uno solo non ha fatti sei vabbè ho cliccato la X no ha cliccato il triangolo credo allora dunque c'è un fantasmino che è la nostra vita il suo lavoro è aiutarci a sbloccare il pieno potenziale ciao così, così, così che cosa dobbiamo fare fantasmino? no dobbiamo seguire le tracce ottimo e che sono le tracce? allora l'abbiamo già fatto? ecco ce l'ho data adesso da craftarlo ah ok ma l'abbiamo già fatto? sì io ne ho uno nell'inventario me ne hai lanciato due Nola? no no c'è anch'io uno ah ok ah lo dobbiamo attaccare fuori? esatto sì vai papà attaccalo tu che così sicuramente ti farà scrivere qualcosa anche io ma fuori a caso dove viene? vai non devo scrivere nulla per ora volevo farlo io anche anno c'è levato i cartelli uffa eh lo so evidentemente è una proposta dai dobbiamo parlare con il cliente cioè noi vendiamo? salve le vendo un'armatura e di là l'ho trovata ah sì siamo i migliori fabbri in città grazie mi apprezzo io questi combini ok dobbiamo andare a trovare a trovare a trovare chi? posso parlare? intanto voglio parlare i template nel tempio intanto voglio vedere cosa c'è in questa ultima cassa nulla ok ma arrivo dove è il tempio? pensate che sia la Bianchi? non ne ho idea esploriamo un po' vediamo un pochino quello che trovi ci sono delle torte prendi un pezzo di torta non posso prenderla ah il fantaisino ci segue che carino però lo potevano fare in versione a lei a suo punto si sembra solo la testa oh ci sono le stalle dei cammelli c'è qualcosa? qualcosa mi dici che dobbiamo andare nelle stalle dei cammelli ok allora seguiamo papà non so forse è sbaglio però è questa? si quindi dobbiamo andare a prendere un cammello io ve l'ho immaginato finta subito prendiamo uno per uno? ma si dai ma dove sono? qui arrivo io permesso mi scusi il mio cammello non passava ma scusate volevo scusate con chi sto? dai mamma vuoi salire su con me mamma? ma dai facciamo una bella caravana di cammelli ma io però volevo chiudere un attimino ma libera lì che ti frega lo sto seguendo io ok l'ho ripreso vai papà dove dobbiamo andare con questi? allora il cancello principale non so se è qui potrebbe essere questo sembra un cancello dai wow che carino ma è fatta veramente bene questa marca si può fare questa cosa su minecraft? che si apre così? non lo so dunque abbiamo riletto la chat e abbiamo scoperto che dovevamo saltare questo burrone con i cammelli eh già proprio come avevo immaginato io brava Enola bravissima allora vediamo se ci riesco perché non l'ho mai fatto salta ottimo allora adesso tocca a voi due vai Enola prima te chi sarà a cadere nel burrone? non Enola che cosa fa? adesso la bestia ho sbagliato è caduta Sakura vedo una scaletta di là si la vedo vai ti osserviamo tranquilla si vede solo la testa del cammello però va bene così io sto seguendo il percorso di mamma è la prima volta che io salgo su un cammello vieni io stavo premo in shift e stavo per scendere dal cammello se te consolo vieni salta vieni devo caricare il salto si vado vai è stato più lungo olè olè allora dunque questo l'abbiamo fatto quindi penso che dobbiamo seguire semplicemente la strada ok si dice che i fiumi non sono un problema per i cammelli quindi li possono attraversare però comunque ci ha dato un guinzaglio per ogni situazione quindi se si dovesse staccare il cammello ci abbiamo il guinzaglio io mi fido perché qui c'è la pastella ok quindi i cammelli su minecraft possono attraversare l'acqua si però non c'è lo scatto nell'acqua vi ho provato prima no critico abbiamo lo scatto anche nell'acqua ah ottimo però a differenza forse dei cavalli che invece si staccano quasi subito allora continuiamo dritti vedo un cancello sono abbastanza lenti a differenza non sei realtà vuoi correre guarda ah si si per carità wow siamo in una città ah scusate è un'imboscata dobbiamo scegliere e combattere ok ci sono anch'io ero rimasta fuori dal cancello non ti prendo da da sopra i domedagli è meglio il domedaglio è rimasto fuori dal cancello ah ottimo sono assata non c'è più ah ed è spammato no sta qua fuori cammello torta da me ti prego forse se sconfiggiamo tutti gli zombie riapre eh già dobbiamo sconfiggere i zombie ok andiamo a sconfiggere i zombie perché io ti voglio il mio cammello anch'io voglio che mamma li abbia il suo cammello ma torrono di più ho un'impressione mia eh lassami stare un altro cancello si è aperto allora quello dietro è ancora chiuso? mamma si allora sali con me eh si me lo conti salta sali presto che vuol di salta? salta su si eh si non devi stare come mai dare un pugno al cammello? dai alzati dal cistato e salici io rivolgo il cammello e salici oh ci siamo allora andiamo avanti continuiamo ok di là si è aperto il cancello non lo spiegassi posso dire che questa cosa che siamo in due sul cammello è veramente carino e poi non è cammello si chiama dromedario è dromedario e no no lo vedo papà quindi ho il terrore che ti porti poi la mia idea no no è il tempio ah ok ho sentito di entrare nel tempio il tempio è quello lì davanti perfetto lo vedo è bellissimo andiamo è fatto veramente molto bene allora penso che qua dobbiamo scendere credo che i cammelli salgano anche i rampicanti e invece si vedi un po' buio ma carino wow beh hanno creato l'ambiente allora ci dice che dobbiamo trovare un bottone per aprire la porta ok ma è illuminato cioè è veramente facile lo trovato in che senso è illuminato è qua ah è dove stava la torcia ok noi non scendiamo dal dromedario oh ah ho acceso un fuoco ah quindi ne dobbiamo trovare più di uno ok uno di sette stiamo è un po' come una mappa find the button praticamente scendi dal dromedario che tanto vedi se mette giù ho trovato un altro bottone e no qui c'è un bottone ok io ho delle uccidi uccidi ok ok odio i silverfish odio i silverfish oddio 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 mi hai lasciato a tre cuori a me eh sì perché ci picchiano tra di noi quindi dobbiamo fare attenzione quindi semmai quando fare attenzione a Enola in effetti Enola è più pericolosa di un silverfish siamo a cinque qua giù vedo delle particelle qua sopra in alto le vedo solo io qua giù in alto le vedo le vedo l'ho visto il bottone ottimo perché non me lo prende provo a togliere lo shift il dromedario ha un amante è un amante del fuoco contento lui ma ma saliamo sul nostro dromedario dromedario va a fuoco o del morto eh vabbè ma allora il dromedario è proprio che poi avevamo i guinzagli potevamo legarlo alle fence questo qua l'abbiamo premuto prova trovato ottimo allora vediamo 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 dice che questo dovrebbe significare qualcosa il problema è che non riesco a leggere tutto sembra quasi che un oggetto quadrato ci vada all'interno quindi immagino che dobbiamo cercare un oggetto quadrato non forse fai parkour per trovarlo è diventata una mappa parkour a quanto pare ti seguirò in un salto che farai chi? a te no 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 questa è Nora è Nora è brava nel parkour l'ho trovato brava perfetto perché io non c'erano ancora arrivato arriva giù wii wii allora arrivo ma se dall'altra parte con questo lo facciamo sbarciare via wow ci dici che siamo veramente i bravi in questo oddio c'era un salto io non lo stavo per fare ma c'è uno zombie dietro? no no si due zombie ma ha aperto queste non erano chiusi? si vedi come sono fatti ma qui non lo uccidiamo ma è uccidato questo bravo ah si è bambini chi va a uccidere il cammello? un altro zombie un altro save al fix ma stammi lontana tu assassina vabbè guarda io vado scappiamo via da questo posto qui ok allora qui c'è l'uscita wow penso che dobbiamo qui c'è qualcosa qui c'è un altro qualcosa mi dice ma guarda quanti ce n'è anche uno lì a sinistra e uno qui a destra quindi dobbiamo trovare altre cose tre oggetti e lì sopra c'è un'altra anfora dorata scusate ma è questo? così? si perfetto mamma è quello l'hai trovato e come lo porto? ora lo dobbiamo soltanto portare guarda mamma ci penso io sta tranquilla ah a pugni ok ah oh siamo cadute nel fiume facciamolo io mamma da qua come fa a salire? mi sto guardando un attimo intorno per capire forse c'è un altro via no vedo un buco qui forse è lì che è tutto forse lo dobbiamo portare qui si e no allora vai quindi ok brava no troppo no no non va nell'acqua così vai si spinge un altro pochino e ora vai sul ponte brava che cavolo facciamo arrivare vai io ti seguo di qua ma come brava e nola vai state tranquilli già possiamo fare ti porteremo a casa dobbiamo buttarlo qui sotto si vai buttalo di sotto vediamo che succede sono via sentiamo anche noi è sicura la strada? si allora vi ragione perfetto quindi uno l'abbiamo messo e nola ho trovato mi ha aiutato si davvero? si però c'è del parkour da fare quindi non mi chiedete io come ho fatto ad arrivare fin qua su senza mai cadere allora dovete passare lo vedo anch'io ottimo brava sta lì giù allora dovete passare qui alla mia sinistra lo vedete? ok la nostra destra e nola vai sempre citta sulla destra ci sono delle scale ah ma lui è facile facile la strada no si poi più avanti c'è un salto da fare poi di qua si vai salta e arrivi laggiù vai nola fammi strada brava poi di qua ottimo e c'è anche una cosa da prendere la vedo prego nola la prenda la prenda ok wow olì olì lei è un talento del parkour ce l'ha fatta stranamente ce l'ho fatta anch'io wow e vai e lei ha citato dica la velica e no la butta giù no 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 ha citato stranamente no ma è caduto ha fatto male ha fatto tre vai nola bravissima quindi ce ne rimane soltanto uno ok quello là l'abbiamo già inserito? allora quello di là si l'abbiamo già inserito volevo andare di nuovo al centro magari c'è una vista migliore riusciamo a vedere dov'è ah ma aspetta l'abbiamo visto si io non ricordo è qua sopra dov'è? dov'è? guardatemi come hai fatto ho citato di nuovo nonna ve la mostro ecco eh arrivo eh ok venite con me vieni nola allora era più facile di quanto potevano farci fare un bel parkour e invece no hanno pensato secondo me che c'è gente incapace come me e quindi hanno detto questa volta facciamo una strada alternativa allora se non erro è questa si allora nola bisogna prendere la cascata l'abbiamo già inattinato ok non bisogna arrivare fino a su bisogna passare qua vedete ma lei è un hacker lo dica e siete praticamente arrivatissimo vai nola buttalo giù ok adesso l'abbiamo buttato giù e invece dovevamo lasciarlo no dovevamo buttarlo qui nola non lo fa cadere di sotto però sinceramente poi non so che succede oh papà fai con calma e lo portiamo qui dritto per dritto bravissime nola vai che è successo non lo so però immagino qualcosa davanti qua si è aperto qua davanti ma dove si dove è uscito lo zomboide bello non prendere danno da caduta comunque è un party che cosa sei tu una mummia zombie allora lascia mi stare specie di mummia zombie mummia zombie c'è una cassa facciamo aprire la cassa a mamma così fa dai il silverfish il silverfish aiuto lascia mi stare il tesoro non mi piacciono nella vita reale ragazzi ho aperto la cesta hai aperto la cesta si lo so cosa c'è guardate qua ma è sparita si ah c'è il template l'ho visto dalla mano di enola ma di che è successo ce lo mostri ci fai vedere cosa c'era nella matta no perché ci siamo svegliati dal sogno c'era un sogno noi abbiamo fatto tutte queste cose e c'era un sogno eh già dobbiamo parlare di nuovo col professor stone che poi è professore ma mi chiamo non sa che non sa che è stato un sogno bellissimo che cosa ci dice scusate ci dice buongiorno avete dormito bene avete fatto dei progressi scavando nel tempio del deserto siete pronti per aiutare dobbiamo trovare altra sabbia sospetta quindi andiamo vediamo se si vede un simboletto allora dice che dobbiamo trovare la sabbia sospetta nel tempio del deserto che forse è la piramide guardate io lo vedo di qua enola mi vedi si lo vedo non sa che papi ha ragione è nella piramide dove volevo andare prima io nella piramide e anche io si è nella piramide sotto si vai enola ok è la stanzetta quella che hanno aggiunto con la 1.20 papi non mi è andata mi scusi pensavo non sapevo che c'era un muro cosa ha trovato un cozzo di vaso wow con che cosa ha disegnato che vuol dire sui cocci c'è un disegno no ah si un diamante un diamante aspettate forse c'è un altro no no dobbiamo tornare a parlare col professor Stone ok d'accordo andiamo a dormire quindi andiamo tu dici che c'è di fare dormi di nuovo si faremo un altro sogno fantastico vediamo vediamo dov'è ehi è qui ok allora si dice che abbiamo delle skills altissime eh eh trovare i tesori dobbiamo andare a dormire eh no l'avevi ragione io che avevo detto posso addimentarmi io stavolta non l'ho mai provato buona no vedo vedo mamma che ti guarda la metto a letto si ma ti canta pure la ninna nanna dove siamo adesso oh nel idioma del cherry no ma è bellissimo qui c'è un foglio di carta con delle particelle ok vai leggi che ci mi è scomparso davanti l'ho preso io andiamo a parlare con Isabel Isabel wow è il nostro posto mamma decisa no guardate lì cosa c'è no vabbè io rimango qui voi continuate la mappa mamma 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 allora scusa mi hai chiesto di stare con te e mi prendi a pulmi allora torna qua torna qua allora io direi che però questa parte la esploriamo domani si speriamo che questo video vi sia piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e da noi è tutto e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao io mi chiuso mio padre aiuto